Lo scenario è effettivamente difficile, complesso, quasi drammatico per certi aspetti. Noi siamo sicuri che il settore assicurativo è molto importante proprio in un contesto del genere perché può attivare quello che è il proprio mestiere, la propria mission e cioè aumentare, rafforzare la protezione degli italiani attraverso le coperture sui rischi e nello stesso tempo investire. Sapete che siamo un investitore istituzionale, i nostri investimenti hanno raggiunto uno stock di 1.050 miliardi e abbiamo una raccolta, finora almeno una raccolta netta, positiva, che ogni anno ci dà un flusso di nuove risorse da mettere nell'economia. Facciamo da ponte tra i risparmiatori e l'economia del Paese. Presidente, lei ha parlato di investimenti, a questo proposito le chiedo in che modo il settore può supportare il rilancio del Paese? Beh, le ho detto innanzitutto indirizzando queste risorse che ogni anno abbiamo disponibili nell'economia reale, così come abbiamo fatto ad esempio l'anno scorso con un fondo di investimento infrastrutturale in Italia. Abbiamo raccolto 516 milioni in varie iniziative e siamo andati appunto oltre, abbiamo fatto il final closing, ben oltre il target che ci eravamo dati. Questo significa che si può fare, che ci sono tante tante iniziative importanti per il nostro Paese, sapete che in termini di investimenti il nostro Paese aveva rallentato già da tanto tempo, ora grazie al PNRR le cose stanno cambiando, sono in qualche modo già cambiate e noi vogliamo investire in complementarità col PNRR.